Dorgia? Eh? Ehi? Mi è? Pimma? Dorgina? Cosa c'è? Eh? Ma puoi ogni volta che faccio la doccia fareste richieste? Ogni volta. Eh? Dov'è Pimmo? Amore, Martinino? Dai, fai leggere una volta. No. No, vabbè, la coda? Questa è robata. Giorgia, andati. Buonasera e questo era Francesco Pini alle prese con la sua gatta Giorgina. Ciao! Ciao!